Il primo obiettivo è andato, la partita è iniziata comunque con un po' di tensione perché eravamo un po' emozionate anche per questa prestazione, infatti abbiamo commesso tanti errori proprio per tensione, errori sciocchi, di solito non commettiamo e a tratti abbiamo accelerato e siamo riusciti ad andare in vantaggio e ad imporre un po' del nostro gioco, serve più continuità e sicuramente domani ci dovremo impediare ancora di più per questa semifinale. Abbiamo fatto una bella partita per quanto riguarda il gioco di squadra, però il come falle perdi troppo e falle fuori. E comunque una prestazione, queste partite contro queste squadre così forti sono importanti per voi per fare esperienza, voi siete una squadra molto giovane. Sì, soprattutto sono in piccola, abbiamo fatto questa esperienza per quanto riguarda iniziare con loro a giocare e a fare un gioco di squadra.